Lavorare nel verde con esperienza, tecnica e passione. Un vivaio che nello scorrere lento delle stagioni accompagna le vostre scelte. Vivai Bergonzini, azienda ortoflorovivaistica dal 1850. Progettare il verde, interpretarlo, ripristinarlo o riprodurlo senza forzare la natura è l'obiettivo del nostro lavoro. Qualità senza forzature, rispettando la terra e i cicli naturali. Abbinare la ricerca che si basa sulle tecniche innovative con l'attenzione per gli aspetti più autentici del paesaggio, impiegando la praticità delle nuove lavorazioni con i più tradizionali materiali usati nella campagna. Architettura del paesaggio, progettazioni personalizzate. Un'idea inconsueta, un tocco inconfondibile, un giardino unico, il tuo. Vivai Bergonzini, radici che affondano nella storia.